La cioccolata non soffre la crisi e la dimostrazione sono state proprio le vendite del periodo pasquale che non solo non sono calate ma hanno evidenziato anche un desiderio di qualità, eccellenza e gusti raffinati nei consumatori. Non ci si rinuncia e anzi se è possibile magari si cerca anche di una qualità superiore visto che il cioccolato come anche il caffè è un mercato molto ampio e non è così sempre semplice trovare della buona qualità. Quindi hai notato soprattutto fondente per la maggior parte? Sì, soprattutto fondente e abbiamo riscontrato che anche tanti bambini piccolini preferiscono il fondente al latte cosa che ci fa piacere perché più cioccolato fondente si mangia e sicuramente meglio è. Siamo andati anche a Dagliana dall'eccellenza della cioccolata, Roberto Catinari. Qui negli anni la qualità del cioccolato non ha mai smesso di essere l'arma vincente. Ho notato che inizialmente dopo un po' di titubanza, le varie paure venivamo dall'anno scorso, zona rossa appunto, e invece poi è stato un assalto all'uovo e neanche all'uovo base, all'uovo sciuffo, quelle più tradizionali, ma anche richieste da più golosi diciamo, con ricco di nocciole, addirittura abbiamo avuto una crescita esponenziale della richiesta del pistacchio. C'è stato l'incredibile perché nonostante zona rossa, situazioni un po' particolari privi di questo periodo, le persone sono venute, abbiamo ricevuto clienti, anche molti ordini tramite delivery, quindi siamo rimasti più che soddisfatti, contenti, addirittura che hanno sempre scelto l'arte di Roberto Catinari e l'altissima qualità. Senti Alessandro, è vero che la cioccolata è antidepressiva? Sì, devo dire di sì, anche noi in laboratorio quando magari c'è le giornate un pochino più stanchi, vediamo che andiamo alla ricerca di qualcosa che ci tira su, che ci faccia anche un pochino fare due risate, siamo più allegri, sì, lo consigliamo ovviamente, sì.